ho trovato questo topolino era finito e lo sto aiutando bravissima signora guardi anche io ho trovato uno scogliattolo come vede ci sono tanti animali qui nel bosco sono i nostri amici e noi li dobbiamo aiutare è vero noi siamo responsabili del bosco e di tutti gli altri posti di questa terra gli animali sono i nostri amici è vero io ci parlo anche e ti rispondono qualche volta cerchiamo di capirci sa come loro noi abitiamo questa terra è vero e il bosco è un posto bellissimo allora quando saranno guariti li rimetteremo in libertà li porteremo qui insieme a tutti gli altri amici va bene sì posso venire con lei sì libereremo lo scogliattolo e il e così loro saranno di nuovo liberi nella loro casa nel bosco evviva andiamo allora